Un saluto a tutti gli amici di Telefonino.net, video che sto registrando con l'Xperia Z3 Compact di Sony. Video in risoluzione 4K con regolazione continua di messa a fuoco e di esposizione, presente anche lo stabilizzatore d'immagine SteadyShot. Presente anche lo zoom digitale. Proviamo ad andare anche con la sola, vediamo la velocità di regolazione dell'esposizione. Torniamo nuovamente su un dettaglio ravvicinato, vediamo la velocità di messa a fuoco, direi sicuramente è buona. Vi vedo video registrato in risoluzione 4K con l'Xperia Z3 di Sony.